Eccoci qua. Allora, segretario, io l'avevo fatto un po' la provocazione, quanto diceva prima il Presidente Bellati, applicato dati alla mano, comporterebbe dei miglioramenti? Ma certamente sì, io porto tre esempi concreti. Primo, gli aiuti reali alle imprese. Finora lo Stato è intervenuto con qualche soldo, ma il prolungamento della crisi, il prolungamento delle difficoltà del coronavirus, devono imporre allo Stato la scelta, il governo, la scelta di dare soldi reali subito alle imprese. La Germania dopo 48 ore dall'annuncio dei soldi diretti alle imprese, li ha accreditati sui conti correnti delle piccole imprese. Dobbiamo fare anche noi così, non che passino mesi, mesi e mesi, altrimenti non ce la facciamo. Quindi aiuti concreti, reali, almeno annullare le spese vive, non dico fermare le tasse, rinviare, almeno rinviare. Primo ragionamento. Secondo ragionamento, dobbiamo sospendere la burocrazia. Noi siamo riusciti in questi sei mesi a sospendere delle libertà individuali fondamentali, che erano previste e confermate nella Costituzione. L'abbiamo accettato tutti, soprattutto i primi tre mesi di lockdown. I cittadini italiani, veneti, italiani, hanno accettato tutti, che imbrontolando un po', ma abbiamo accettato tutti i condizionamenti fortissimi alla persona, alla libertà, alle libertà personali. Ma perché non sospendiamo la burocrazia? Io oggi, 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 mercoledì, oggi, giovedì, ho già scritto quattro volte la mia data di nascita su documenti per entrare. Quattro volte. E la febbre? E la febbre? E la febbre, ma la febbre posso anche capirlo. Ma io sono nato una volta solo. Ma la pubblica amministrazione ha la mia data di nascita. Certamente tutti quanti ce l'hanno. Prova ne sia che se tu evadi un centesimo, a me è successo di evadere sette euro, mi è arrivato immediatamente tutto quanto alla scarpella. Quindi tutti che mi conoscono, sanno. Ma perché continuano a chiedere uno sognante? Pensate che io devo fare ogni anno una autocertificazione di esistenza in vita. Credo solo l'Italia abbia queste cose qua. Io devo dichiarare di fronte agli altri che io sono vivente. Quindi sospendere la burocrazia. Sospendiamola per sei mesi, per un anno. Ma cosa fanno tutti questi burocrati? Questo è il problema vero. Terzo, noi impostiamo tutte le leggi e lo vediamo adesso in modo particolare. In modo tale le complichiamo procedure su procedure. Perché pensiamo, partiamo dal presupposto che il cittadino che ho di fronte voglia fregare lo Stato. In base a questo presupposto, a questo pregiudizio, io imposto la legge. Ma è la cosa peggiore. Perché è così rispetto ai 5% magari dei cittadini che vogliono violare la legge. Penalizziamo il 95% dei cittadini, ma soprattutto costringiamo i cittadini a non poterne più di tutta questa burocrazia. Vado a altri due punti velocissimo. Primo, noi nelle assunzioni, nel rapporto di abbiamo delle regole terribili per la riconferma del periodo a tempo determinato e non più dopo i secondi sei mesi. C'è tutta una serie di paletti, chiamiamoli così, non uso una parola più forte, di paletti che rendono difficile mantenere in occupazione soprattutto i giovani. Perché oggi chi è a tempo determinato sono i giovani, mica sono i cinquantenni normalmente. sono molto di più giovani. Bene, sospendiamo tutte queste regole per due anni, per un anno, per due anni, per le micro e per le piccole imprese. Vedrete come i dipendenti se li tengono stretti, anzi aumentano le assunzioni. Ma ne abbiamo di prova quando succede che vengono sospesi per un certo periodo alcune regole, che poi sono regole che vanno anche qui, vogliono penalizzare chi fa il furbo e per cercare di penalizzare chi fa il furbo mettono nei guai tutti quanti le imprese. Sospendiamole queste regole. Quarta e ultima questione che pongo, questa è grande come una casa di cui non se ne parla. Noi abbiamo in Italia rafforzata la differenza fra due aree di lavoratori nell'economia italiana. Fra l'area dei lavoratori che sono cosiddetti, virgolette, in sicurezza, perché hanno il posto di lavoro fisso, perché hanno gli ammortizzatori sociali, ancorché penalizzanti per certi aspetti, ammortizzatori sociali, perché possono stare a casa, perché, 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 e non andiamo oltre, lo capiamo. Dall'altra parte abbiamo un'altra area di milioni di persone in Italia, non di qualche centomila, di milioni di persone in Italia che non hanno nessuno di queste sicurezze e sono, definiamoli, l'area di precarietà. Dentro ci metto artigiani, commercianti, operatori, partite IVA, ecco usiamo questo termine così li prendiamo tutti, partite IVA, che oggi non hanno nessun aiuto, nessuna garanzia, e però di questo non se ne parla. Quindi io non vado contro l'area che ha sicurezza, l'area messa in sicurezza. Buon per loro, benissimo, ma vogliamo pensare a questi che oggi, e sono milioni, sono 6-7 milioni di persone, che oggi sono nell'area della, no, della non sicurezza, della totale insicurezza, anzi, della certezza che chiudono. Infatti, e se chiudono è un disastro, effettivamente, perché poi riprendersi e diventa drammatico. Porto un ultimo esempio, perché è clamoroso. Mi spiace tantissimo per Longarone, dove una piccola realtà ha costruito una delle più importanti fiere del mondo, quella del gelato, gli effetti del Covid si sentono più nei piccoli, mentre i grandi sono sempre tutelati. Sta dando ragione al segretario Marzoni, questo signore, è proprio così. Grazie, portavo un ultimo esempio, perché anche questo è clamoroso, di cui poco se ne parla. Sono i debiti della pubblica amministrazione nei confronti dell'economia reale, delle imprese, eccetera. Debiti che sono scaduti abbondantemente, i termini sono scaduti abbondantemente, e non vengono pagati. Parliamo intorno ai 65-70 miliardi di euro in Italia, ma allora, vogliamo smetterla e di dire diamo aiuto? Il primo aiuto è, paga i debiti che sono scaduti, tanto sono debiti veri, reali, non presunti. Pagali questi debiti. Il governo ha messo a disposizione col decreto rilancio Italia, di qualche mese fa, 12 miliardi. Sapete, la settimana scorsa, a dire la verità, non ho i dati di questa settimana. La settimana scorsa quanti ne erano stati utilizzati di questi 12 miliardi? Neanche 3 miliardi. E gli altri sono là fermi. Fermi dove? Fermi a Roma, non spesi, non vengono pagati. Anche qui, perché c'è una burocrazia terribile per arrivare al pagamento di un debito riconosciuto per prestazione di servizi o per cessione di beni. È un debito riconosciuto con fatture regolari e mese. Pensate che in termini di IVA cosa vuol dire per le imprese. E non capisco perché non si proceda a pagare i debiti scaduti delle amministrazioni. E se andiamo a guardare, ultima malizia, ultima malizia, se andiamo a guardare, vengono pagati i debiti delle grandi imprese perché è un grande importo che fa colpo sul percentuale, ho pagato il 20%. E mentre le piccole imprese, le micro imprese che avanzano i 50, i 100 mila euro, eccetera, non vengono pagate perché non fanno notizia in termini statistici. Questo è il guai. Però fanno, non notizia, fanno morire le piccole e le micro imprese. Assolutamente. Ma è un paese, secondo me, debole con i forti e forte con i deboli perché l'osservazione che ha fatto quel telespettatore, una fiera piccola viene svantaggiata particolarmente. È verissimo perché le politiche eventualmente vanno soprattutto a favore delle fiere grandi. In questo momento, nel settore fieristico, abbiamo detto, il governo proprio manco lo considerano, ci hanno messo insieme nel decreto, se voi guardate, il DPCM con le sale da ballo e con le discoteche. Nell'ultima riga poi, neanche nella prima riga, quindi siamo considerati meno delle sale da ballo con tutto il rispetto delle discoteche che sono una feta importante di PIL. Avete fatto qualche interpellanza al riguardo, vi siete un po' mossi. Ma certo che abbiamo fatto quello che potevamo con i nostri riferimenti del territorio a livello politico, a livello anche burocratico. Abbiamo il sostegno, per esempio, come Fiera di Longarone, fortissimo da parte del Comune di Longarone e del suo sindaco Roberto Padini della provincia, ma ovviamente i mezzi in un sistema centralista come il nostro, che ha una provincia che è stata tolta via tutti i poteri e i soldi e un Comune, sono talmente ridotti che possono fare ben poco, perché anche nella pubblica amministrazione sembra che si avvantaggiano gli enti grossi e si svantaggiano i piccoli. Ma ecco, dicevamo poco fa di guardare all'esempio degli altri come proposta costruttiva. Ecco, in Germania i nostri gelatieri, quelli che vengono poi alla manifestazione della MIG, ci raccontano, ma lo leggiamo anche sui giornali, che gli interventi sono arrivati, come dice il segretario Masol, sono arrivati nell'arco di 24-48 ore, perché ovviamente hanno i numeri dei conti correnti di questi piccoli imprenditori, e gli hanno dato subito i soldi, gli hanno dato subito, hanno aiutato i più deboli, i quali però dopo pagano le tasse e tengono in piedi l'economia, garantendo lo stipendio garantito di coloro che invece sono quella parte più privilegiata della popolazione che ha tutte le proprie tutele. Assolutamente, siamo in chiusura, segretario Masol, a proposito di piccoli, deboli e versamenti direttamente in banca nel conto, gli artigiani piccolini che hanno avuto la penalizzazione della chiusura eccetera, risulta qualche cosa che dovrebbero ricevere anche loro nel conto corrente se non sbaglio, a voi cosa risulta? Vengo al discorso di prima, intuizione felice, scelta felice del governo, basta che non arrivino ai morti del prossimo anno, questo è il problema, certo che invece che se fossero 1500 sarebbe meglio, non c'è limite alla richiesta, però oggettivamente la scelta fatta è una scelta intelligente, basta che sia attuata. Assolutamente sì, allora detto questo io vi ringrazio entrambi per essere venuti, ci avete dato un po' un aggiornamento su una situazione, diversi punti di vista, voi come sempre di aver scritto, so che riceveremo poi molti vostri messaggi al termine della trasmissione come sempre, ma come sempre vi promettiamo che le mail poi, le domande le rigiriamo ai nostri ospiti che ci garantiscono torneranno, no? Assolutamente, assolutamente, con nuovi aggiornamenti, nonostante le fiere in questo momento siano sospese, non sappiamo fino a quando, anzi abbiamo più tempo di venire, ecco esatto, così non avete alibi e anche il segretario Umazon di essere con noi presenti, benissimo, grazie a voi tre di averci seguito, grazie ai nostri ospiti di essere stati qui con noi e come sempre ci rivediamo domani.